Rieccoci qua con gli esercizi di meraviglia e ho sempre queste bellissime foglie rosse della siepe. Se anche voi avete una siepe molto generosa potete pensare, oltre che a fare la sirena che abbiamo già visto, anche a ricavare qualcosa d'altro. Ad esempio, se voi ne prendete una discreta manciata, da questo potremmo tirare fuori un bel vestito, un vestito quello per le grandi occasioni, che mettono soltanto le signorine per bene. Beh, oddio, anche per male se lo comprano. Eccoci qua, basterà disporre le nostre foglie in questo modo per ricavare una gonna. Una bella gonna rossa. Pochi tratti e riusciremo a disegnare una signorina sopra questa gonna. Con queste belle penne glitter tutto è più bello. Ed eccoci qua. Signorina con vestito di foglie rosse della siepe. Adesso ormai ho comprato questa grande confezione di glitter e li devo consumare tutti. E ci farò delle decorazioni qua e là. Mi raccomando, venitemi a trovare su burabacio.wordpress.com Grazie.